buongiorno buonasera buonanotte sempre mantenendo fermo un fatto che non so quando voi leggerete questa mia quando voi vedrete scusate questa mia lezione dalla cella numero 13 di questa rebibbia virtuale sì è passata più di una settimana abbiamo fatto le vacanze pasquali non vi ho voluto stressare ora comincerò a ritmi piuttosto sostenuti per arrivare alla fine del corso perché ormai è quasi sicuro l'università riaprirà il 15 settembre se va tutto bene forse ci vedremo a giugno luglio per gli esami di persona e sarà una gioia per me esaminarvi di persona vedere che state tutti bene eccomi qua con i capelli più lunghi la barba incolta perché una pigrizia oltremodo aggressiva mi ha conquistato una pigrizia non intellettuale perché mi sento molto attivo ma una pigrizia che riguarda la cura non del corpo che è sempre molto attenta continuo infatti a usare anche se da solo anche se per me i miei profumi i miei noti profumi per chi mi conosce oggi ho una ventus di creed che è un profumo molto molto interessante ma i capelli sono cresciuti non vorrei diventare brutto come angelo branduardi e diciamo riprendo il filo del discorso laddove lo avevo lasciato e lo avevo lasciato inseguendo quella quelle fratture epistemologiche che ci consentono consentono di leggere un tempo nuovo il novecento rispetto all'ottocento attraverso delle svolte svolte nella concezione del mondo nella storia del pensiero e avevamo parlato appunto della psicanalisi avevamo parlato del pensiero di inizio della proclamazione della morte di dio sto per entrare nella nuova concezione del tempo che in quegli anni in quel giorno di anni primo novecenteschi fino ottocento primo novecento avrà due grandi protagonisti filosoficamente diciamo così imprescindibili e con modifiche irreversibili nella storia del mondo molto più profonde di quelle che ci lascerà il coronavirus che comunque saranno significative dal punto di vista diciamo così antropologico dei costumi del comportamento ma per quanto riguarda la concezione del tempo Bertson e Einstein introducono un nuovo modo persino di pensare che ovviamente si porterà dietro un nuovo modo di fare letteratura quando appunto vuole essere all'altezza di quelle svolte epistemologiche avevo lasciato il filo del nostro discorso aggrovigliato a una questione quella della morte di dio quella del montale di ossi di seppia quella del montale del 1925 che in quei famosi versi appunto diceva a chiare note chiederci la formula che mondi possa aprirti si qualche storta sillaba è secca come un ramo questo solo possiamo dirti ciò che non siamo ciò che non vogliamo la negatività il sapere negativo l'affermatività d'annunziana è finita per sempre i superuomini sono morti tutti nelle catombe nella duplice catombe della prima e della seconda guerra mondiale possiamo avere al massimo se ci va bene con montale un sapere negativo possiamo sapere ciò che non siamo ciò che non vogliamo ma sapere cosa l'uomo sia da solo al centro dell'universo smarrito oggi più che mai possiamo dirlo che è un infimo virus ci ha messo sotto scacco è finito ragazzi il tempo di marsiglio ficino l'idea che l'uomo sia il centro dell'universo copula mondi connessione di mondi e animale privilegiato un infimo coronavirus ha rischiato di schiantarci guadagniamo tutta la nostra umiltà e tutta la nostra marginalità dentro questo universo che non è stato fatto da nessun dio per noi e per nessuno noi abbiamo dominato conquistato soverchiato assoggettato oggi la spiaggia del ghero qui dove mi trovo e che vedo ogni otto giorni quando liggio alle regole siate liggio alle regole ragazze vado a fare la spesa ecco oggi la spiaggia del ghero è in mano a gabbiani e piccioni nelle piazze delle capitale dell'africa sono tornate milioni di scimmie i cinghiali stanno riprendendo la città ebbene è male è inutile dare dei giudizi ma dicevo in tutto questo prima di prendere in considerazione come meritano i due concetti di tempo relativi a Bergson e a Einstein che avranno così tante conseguenze è bene a questo punto diciamo ricordare che forse lo scrittore che io reputo forse lo scrittore più grande del novecento non solo voglio dire senza proprio tema di smentita con la massima convinzione possibile quello che io reputo lo scrittore diciamo così più grande del novecento è quello che ha dato meglio voce al fantasma della morte di dio che per lui era anche l'auspicabile morte del padre è infatti autore di una memorabile lettera al padre in cui si rivolgeva al genitore spiegandogli perché lui avesse terrore di lui mi sto riferendo a Franz Kafka l'autore del processo e della metamorfosi la metamorfosi è un libro inquietante perché è tutto fondato sul non senso di una condizione terribile e orribile che è proprio la condizione di un universo in cui dio tasce o è morto come boeva Nietzsche Gregor Samsa si sveglia una mattina e si trova trasformato in uno scarafaggio non c'è ragione di questo ma la cosa ancora più inquietante che i suoi genitori lo lasciano segregato la sua famiglia in camera e gli gettano come se fosse una fiera un cane un animale in cattività dei più spreggevoli gli buttano il cibo non si sorprende nessuno nessuno è sorpreso di un fatto che è stupefacente perché sconvolge le regole della natura un uomo che si sveglia la mattina e si trova trasformato in uno scarafaggio il sentimento della perdita di ogni centralità dell'uomo di ogni fiducia di ogni autostima l'idea appunto dell'assoluta irrazionalità della vita l'idea del fatto che la vita sia non solo perdita secca ma disvalore assoluto si sviluppa in kafka con una lucidità che non incontreremo più in nessun altro nemmeno nei grandi nichilisti del novecento tra i quali voglio citare come omaggio a una persona cara Sioran che ama molto e che spero senta questa mia lezione dico né Sioran né Ionesco né Beckett che pure toccheranno vette di devastazione nichilistica diciamo raggiungeranno quel senso di insentimento insensatezza che kafka agli inizi del novecento raggiunge in un'opera come la metamorfosi e ancor più nel processo che non ricordo se ho già rammemorato in qualche lezione precedente probabilmente sì ma ripetita juvent e mai come in questo caso citare kafka è una benedizione per forgiarci gli strumenti per vivere meglio a partire dalla nostra fragilità e dal nostro assoluto assoluto bisogno d'amore il processo appunto un uomo franz k una mattina si trova diciamo condannato non si sa perché viene prelevato da casa c'è una condanna ma non si sa quale sia il diritto o la colpa per cui diciamo questa condanna è stata combinata kafka è diciamo uno scrittore che stupefacentemente rovescia lo schema epistemologico diciamo della 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 che pur troviamo per esempio in una grandissima scrittrice contemporanea eh di ehm di kafka e che in qualche modo i gli studenti che stanno seguendo il corso di letteratura contemporanea della sardegna perché questa è una lezione che vale sia per letteratura contemporanea sardegna che per letteratura italiana contemporanea avranno modo di vedere vicino grandissima scrittrice la dell'edda ecco e cercherò di farvi di spiegarvi e di farvi capire perché per come ma diciamo kafka rovescia il rapporto tra colpa e spiazione come dire ci potrebbe essere l'espiazione ma non c'è la colpa c'è la condanna ma non c'è il delitto guardate io detesto i gialli non sopporto nemmeno il più bravo di tutti i giallisti che è Andrea Camilleri che fa i suoi giudiziosi compitini di giallista figuriamoci se possono amare assoluti mediocri come Maurizio dei Giovanni ma perché non amo il giallo mica per motivi di apprezzione personale nei confronti di questi scrittori non amo il giallo perché kafka all'inizio del secolo ha già fatto fuori e scardinato il meccanismo del giallo tradizionale che cos'era il giallo tradizionale quello per capirci dei classici straordinari ecco se dovete leggere i classici leggete i gialli leggete i classici leggete Agatha Christie leggete Sherlock Holmes che cos'era il giallo tradizionale era l'irruzione del delitto il più mirabolante il più impossibile a decifrare la presenza di super uomini o super donne cioè Sherlock Holmes o Miss Marple o Poirot ecco la capacità di questi eroi super eroi del colcetto di arrivare a una soluzione di quel delitto con grande passione del lettore che segue e con la presenza spesso pensate a Watson nel caso di Sherlock Holmes ecco vi dico una cosa che forse già sapete la famosa frase elementare mio caro Watson quando Sherlock Holmes servia a spiegare come è arrivata quella soluzione che nessuno avrebbe mai scoperto è raggiunto nei romanzi dicono no elementare mio caro Watson non esiste mai non c'è c'è soltanto nei telefilm e mi piacerebbe se se ne potesse vedere qualcuno ma non ho abbastanza giga per potermeli andare a cercare in rete anche questa disgrazia è capitata così a un passant scusatemi l'autobiografia ma dicevo scusate Kafka rovescia il paradigma indiziario perché se nel giallo tradizionale avevamo un delitto un eroe superman del concetto come Agatha Christie o Sherlock Holmes che lo riusciva a arrivare alla soluzione e poi dopo i giallisti si disinteressavano del fatto che il colpevole potesse essere diciamo assicurato alla giustizia perché nel sistema diciamo mentale di Agatha Christie o di Sherlock Holmes la giustizia funziona il carcere è assicurato a delinquenti le cose cambieranno con un grande giallista anomalo come Shasha per cui la cosa interessante di Shasha non è trovare la soluzione che il lettore sa dall'inizio quanto vedere come quella verità non viene onorata ma viene combattuto dal potere che alla fine riesce a farla fare franca ai colpevoli ma non voglio entrare adesso dentro questo labirinto che è l'opera di Shasha un'opera complessa su cui ho scritto tanto per chi vuole può approfondire andandosi a vedere il mio libro del 94 che è ancora in commercio per la terza ma anche se ormai esaurito e che sarà ristampato tra qualche mese per i scibolette per la terza volta diciamo che ritornando a noi di Shasha il Kafka mirabilmente rovesce il paradigma mentre nel giallo tradizionale noi abbiamo diciamo così un detective che dalla colpa dal crimine va alla ricerca dei colpevoli noi abbiamo nel processo di Kafka lo stupefacente fenomeno di un colpevole alla ricerca della colpa e con situazioni incredibili anche queste cose misteriose per esempio Kafka individua straordinariamente io purtroppo non sono germanista non scriverò mai queste cose ma non l'ho trovate a mia conoscenza nella storia della critica kafkiana che pur un po' frequentato cioè nessuno ha riflettuto abbastanza su questa connessione tra Eros e potere cioè il colpevole Franz Kappa man mano che si avvicina il centro sceno del potere alla ricerca della colpa che avrebbe commesso da colpevole dichiarato senza sapere perché diventa eroticamente fascinoso suggestivo desiderato concupito questa connessione misteriosa oserei dire Foucaultiana Foucaultiana tra potere e sessualità Foucaultiana antelittera è già tutta presente in Kafka che scrittore immenso ecco lasciatemi essere entusiasta entusiasta come chi so io lasciatemi essere entusiasta e quindi dicevo il processo di Kafka tra le tante cose che è la dichiarazione della desolazione del mondo la diciamo il silenzio di Dio e la morte di Dio l'alienazione l'angoscia esiste un'interpretazione ebraica molto raffinata che ha cominciato Max Brod dell'opera di Kafka Max Brod è il meritorio amico fraterno di Kafka che ebbe da Kafka l'incarico di bruciare tutte le sue carte cosa che Max Brod grazie al cielo, agli dèi, a Dio, fate voi non fece e abbiamo tutto il ben di Dio che abbiamo se no non avremmo quasi niente di Kafka ma inizia da lì, dai libri bellissimi di Max Brod dell'interpretazione tutta ebraica dell'angoscia dell'uomo davanti a Dio di Kafka ma è anche come dire l'epopea del nichilismo vi ho fatto i nomi che dovevo fare per quella linea che da Kafka arriva il grandissimo Beckett che però ripeto pur essendo il grandissimo Beckett non arriva mai alle altezze in cui Kafka ci ha già collocati all'inizio della vicenda del nichilismo novecentesco quindi tra le tante cose che il processo di Kafka è è anche persino una palinodia ritrattazione, parodia del giallo tradizionale è una cosa che ho sempre pensato Kafka non aveva nessuna intenzione di fare quella parodia o palinodia probabilmente forse non so quanta frequentazione non ho la conoscenza dell'opera di Kafka per poter dire se conoscesse la tradizione del giallo però mi appare evidente, oggettiva nelle cose che il processo è anche tra le migliaia di cose grandiose che è una palinodia, riscrittura, ritrattazione, parodia del genere giallo stesso il che ci dice quanto grande sia l'opera di questo scrittore infinito con così tanti problemi con l'universo femminile non posso non citare appunto prima di passare alla grande rivoluzione epistemologica legata al concetto di tempo non posso non citare avendo citato il montale di ossi di seppia e non ricordando se l'ho citato nelle lezioni precedenti ma appunto ripetita Juvent non fanno male a nessuno appunto il fatto che questo silenzio assordante di Dio che decorre dalla dichiarazione di morte dalla proclamazione di morte niciana ecco dentro questo quadro noi dobbiamo collocare anche un poeta infinito altissimo che è Elliot Wasteland la terra desolata il mondo dopo la morte di Dio ci piaccia o non ci piaccia è una terra desolata ma chiudo qua per andare appunto a vedere più da vicino che cosa interviene in questa svolta epistemologica conseguente alla nuova concezione del tempo Bergson Bergson sapete è famoso per aver criticato il concetto tradizionale di tempo quello così come lo troviamo nella metafisica greca classica così come lo troviamo diciamo così in Newton così come lo troviamo in Kant pur essendo Kant e Newton su posizioni diversissime però tutti diciamo considerano il tempo come una Kant parlava di intuizione Newton più di un concetto comunque intuizione o concetto una forma universale che è necessaria che consente di accomunare tutti gli uomini perché gli uomini tutti gli uomini fanno esperienza all'interno del tempo in tutti i tempi e in tutti i luoghi sul tempo ci si può intendere tra un antico romano e un giovane vitervese come me e non voglio battute sulla mia gioventù perché è una perennità dello spirito che rivendico rispetto a tanti vostri quei tani ventenni molto più vecchi di me purtroppo ma diciamo da questo punto di vista sia Bergson e ancora di più Einstein scardinano del tutto questa concezione del tempo intesa come forma universale e necessaria quindi valida in ogni luogo in ogni epoca storica ma Bergson è il primo a fare una osservazione molto interessante che ci fa capire che la cultura occidentale è basata sulla vista cioè sul concetto dello spazio e infatti contesta innanzitutto una all'interno della metafisica occidentale della storia della civiltà occidentale una diciamo concezione del tempo spazializzata perché il tempo così come la civiltà occidentale l'ha prodotto è un concetto è un pseudo concetto è un concetto fittizio è un concetto che non ha dignità epistemologica e filosofica che deve essere sgritolato e demolito perché è un concetto spazializzato Bergson infatti ci dice come hanno rappresentato come rappresentano gli uomini il tempo quando ci devono adesso io non ho qui una lavagna non lo posso fare ma il tempo viene rappresentato come una retta in cui tutti i punti vengono messi uno dietro all'altro tutti noi siamo disposti a convenire su questa convenzione e a rappresentare il tempo come una linea retta che va all'infinito che inizia in un luogo infinitamente lontano e termina in un luogo infinitamente lontano cioè probabilmente non inizia e non finisce e i singoli istanti di tempo sono i singoli punti ma perché questo tempo è un concetto filosofico falso è appunto un concetto spazializzato cioè pensato e rimeditato a partire dal concetto di spazio dice Bergson quando noi viviamo il tempo e siamo nel presente il presente è quel punto in cui il passato cioè il punto precedente non c'è più e il futuro il punto successivo non c'è ancora dunque io vivo mentre vivo vivo tra il non più e il non ancora per cui io non posso disegnare il tempo come una linea in cui individuare i tre punti perché i tre punti così come vengono rappresentati attraverso una retta sono punti che stanno in compresenza l'uno con l'altro mentre noi nella nostra quotidianità viviamo prima uno poi l'altro poi l'altro ancora il nostro presente è un non essere più e un non essere ancora nel mentre è e quindi da questo punto di vista se noi disegniamo il tempo come una linea mettiamo i punti tutti in compresenza ma qual è appunto quell'entità in cui i punti sono tutti in compresenza lo spazio è lo spazio che ci presenta la realtà un eventuale maggi quadrato una sfera i punti sono tutti effettivamente compresenti il tavolo è tutti su cui ho appoggiato il mio computer e appunto qui di fronte a me diciamo così è tutto in compresenza quindi dice Bergson questo punto è cruciale diciamo così perché non questo tempo è un concetto uno pseudo concetto proprio perché appunto il tempo è altra cosa dallo spazio noi non viviamo i singoli istanti simultaneamente ma li viviamo uno dietro all'altro l'altra questione con cui concludo la lezione riprendendo il discorso nella lezione successiva è il fatto dice Bergson è una seconda critica al concetto diciamo di tempo tradizionale della metafisica tradizionale e cioè il fatto che il tempo così come viene presentato nella metafisica tradizionale da Aristotele da Newton e poi da Kant e poi successivamente almeno fino a Einstein è il fatto che i singoli punti non solo ripeto vengono disegnati in simultaneità ma sono anche diciamo quantitativamente tutti uguali domanda con cui chiudo la lezione di oggi ma davvero i singoli istanti della nostra vita possono essere considerati tutti quantitamente uguali ogni istante uguale all'altro e traducibile interpretabile e comprensibile soltanto attraverso la categoria della quantità buongiorno buonasera buonanotte vi bacio grazie a tutti grazie a tutti